Maria De Filippi la verità su Morgan Il mio fallimento, lo dico perché secondo me Morgan in un talent potrebbe dare moltissimo, ma nel ruolo di direttore artistico non è andata così quindi sì, è stato un fallimento per tutti e due, non penso servano scuse da parte dei ragazzi perché sono certa che hanno protestato in assoluta buona fede, mi è dispiaciuto anche il fatto che abbia lasciato amici senza nemmeno dirmi ciao, senza salutare i ragazzi e nessun altro video lascia un like e iscriviti al canale, grazie